Io sono convinta di uscire, gliel'ho detto anche prima, sono convinta. In ogni caso siamo... guarda, gli ho fatto anche un discorso sabato a Gaele, mi ha fatto davvero molto piacere avere scoperto una persona oltre la superficie che tanto è facile criticare tante volte, quindi molto felice di... È stata una scoperta comune, perché veramente abbiamo scoperto una bella persona con Gaele. Grazie. Allora, il pubblico ragazzi ha deciso che nel duello tra Alberto e Gaele a dover abbandonare la casa del grande fratello VIP è... Gaele, Alberto continua la sua corsa verso la finale.